Sinergie 2019 l'evento dedicato all'immobiliare dei servizi 22 novembre Milano sono con Nicola Reali di AIM che ha ideato scanner immobiliare intanto chiedo a Nicola un commento a caldo sull'evento di quest'oggi è un evento molto interessante ha messo molto in risalto l'importanza del dato e quindi dell'informazione e soprattutto ha fatto respirare tutta la tecnologia insomma che è presente che il mercato fernisce a supporto degli agenti immobiliari. Allora parlando di tecnologia so che scanner può essere di aiuto agli agenti immobiliari ci dai qualche pilola così raccontiamo agli agenti che non c'erano come possono essere supportati da scanner. Dunque scanner è un prodotto innovativo che è molto tecnologico in quanto utilizza diciamo le mappe di Google e con un semplice clic sulla casa riusciamo ad ottenere tutte le informazioni relative a quelle unità immobiliari quindi di un condominio e in più noi abbiamo una filiale a Roma che si occupa di servizi professionali nel mondo immobiliare e quindi riusciamo proprio a supportare le esigenze informative di tutti gli agenti immobiliari per portarli proprio un rogito in modo sicuro. Sito web di scanner immobiliare? www.scanner.it. Grazie mille Nicola a presto ciao